Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotes. Ho creato una nuova poesia dal titolo Un solenne discorso, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Adoro davvero i discorsi, quelli pieni di intenso significato, perché sono ricchi di santi ideali e hanno appunto questa radicazione nell'anelito ricco di solennità riconosciuto in un orgoglio. Quindi un solenne discorso è saggio quando mi sa dire qualcosa, insegnare degnamente la vita vera. E io adoro ascoltare le persone sagge, sincere, concrete, che ci sanno insegnare di concreto qualcosa. Parliamoci chiaramente, questo mondo ha bisogno di persone valorose che infondano i valori e diano un grande significato a tutte le bellezze, a tutte le sfere d'amore, di sapienza, di realizzazione pratica. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Un solenne discorso. Quanto adoro i discorsi, quelli pieni di sommo significato, ricchi di santi ideali radicati, nel solenne anelito ricco di orgoglio. Un solenne discorso è saggio, ci saprà insegnare degnamente ogni vero intento e atteggiamento da realizzare con fede vehemente. Un discorso sapiente, ricco di emozione sarà, ci donerà amore soave da vivere con grandi affinità. La bellezza della vita ci donerà tanta passione, ci offrirà la vera gioia, nel discorso ricco di amore. Grazie, condividete a tutti.